Relazione con le proposte che ho spiegato da me e le proposte che ho messo su entusiasmo per gli equipamenti per hemodiallistri. Portanto ho messo una macchina 2 con una camera 2. E le proposte che ho messo su una medionina e gli equipamenti che ho messo su un'emozione per ogni. E ora lo che vi ho messo da me, è che i pacienti tirano bene con un'emozione e le loro hanno attenti 8 pacienti. A parte di soltanto ho messo su casa e anche la macchina di soltanto perché ho messo su una camera e la manche di soltanto ho messo su un'emozione e ho messo su casa. Poi ho messo la camera e ho messo su cattiva di soltanto la cattiva del nostro lavoro.